Prefetto Gradoni in settimana ha incontrato i sindaci sul piano migranti, quali sono le novità rispetto a questo? Intanto vorrei dire che mi sento molto soddisfatto di questi due incontri con tutti i sindaci della provincia di Siena, perché ho trovato una grande sensibilità e una grande disponibilità a fare questo percorso insieme. Un nuovo percorso che non mira a stravolgere quello che è stato già fatto e io considero il già fatto un motivo di apprezzamento, perché la provincia di Siena indubbiamente ha già svolto il compito dell'accoglienza in maniera estremamente generosa e con risultati apprezzabilissimi. Quindi si tratta adesso semplicemente di adeguare il sistema di accoglienza già in essere ai nuovi modelli previsti dal piano del Ministero dell'Interno in accordo con l'Anci, che prevede una distribuzione a pie equilibrata sui territori comunali dei migranti attualmente presenti e soprattutto nella direzione della costituzione di reti SPRAR, che sono le reti che nascono su iniziativa dei comuni e che sono considerate in tutta Italia e anche a livello europeo come le forme di eccellenza, di accoglienza dei migranti. Si tratta quindi di avviare questo percorso insieme, è un percorso che non sarà realizzato ovviamente in pochi giorni, ma occorrerà del tempo, quindi gradualmente stiamo cercando quindi di lavorare insieme ai sindaci perché si possano mettere in campo queste nuove iniziative SPRAR in tutti i comuni della provincia e questo consentirebbe, ovviamente alla fine del percorso, consentirebbe di distribuire in maniera più equilibrata e sostenibile i migranti sui territori dei comuni della provincia. Come si sarà accorto? I sindaci stanno cercando di organizzarsi anche con delle loro idee, basti pensare a Torrita che comunque si era occupato in qualche anno fa proprio dell'inserimento lavorativo di questi migranti. Ecco, secondo il suo pensiero come si sta organizzando la provincia di Senaci e come l'ha trovata? Guardi, a me è piaciuto molto l'idea che è stata espressa da diversi sindaci ma che ha trovato il consenso generale di tutti gli altri sindaci secondo cui occorre promuovere queste iniziative in un contesto di collaborazione intercomunale nell'ambito delle unioni e dei consorsi dei comuni già esistenti. A me sembra questa un'idea molto interessante che ho colto con grande favore e ho spinto i sindaci ad andare in quella direzione che mi sembra una strada interessante perché consentirebbe ovviamente di condividere a livello intercomunale queste esperienze di accoglienza tenendo conto delle specificità di ogni territorio, ovviamente fermo restando che tutti i comuni poi delle unioni e dei consorsi potranno fornire ciascuno secondo le proprie possibilità e le proprie risorse un contributo all'accoglienza e alle forme di integrazione che saranno ovviamente avviate. Ecco, il dibattito di ogni giorno e chiaramente questo coinvolge anche Siena. Ci sono molti ingressi anche se comunque la situazione qua è tranquilla, però poi le percentuali di coloro che realmente potranno rimanere qui, quindi che hanno veramente lo stato di rifugiato, sono piccole. Secondo lei perché? Guardi, il percorso di riconoscimento dello status di rifugiato purtroppo è ancora relativamente lungo. Il Governo sta mettendo in campo anche nuove iniziative, recentemente sono state già fatte alcune cose interessanti come per esempio l'eliminazione del secondo grado di giudizio e si tratta quindi di accelerare il più possibile le procedure di riconoscimento perché ovviamente questo consente di dare poi un esito positivo alle presenze dei migranti. Ecco, questa mattina si stanno muovendo alcuni poliziotti del sindacato della polizia, che abbiamo sentito anche pochi minuti fa, che parlando di sicurezza si lamentano di una carenza di personale. Ecco, ci risulta che lei avrebbe in mente di reinserire il poliziotto di quartiere. Sì, questo si è cominciato a parlare con le forze di polizia, anche di questa esigenza. In una città, soprattutto come quella di Siena, mi sembra particolarmente importante avviare un percorso in questa direzione. Quindi io ci credo molto, ma credo che soprattutto le caratteristiche della città rendano indispensabile questo tipo di approccio. Ecco, già durante la conferenza stampa di presentazione abbiamo illustrato quelle che poi sono le vicende senesi, sicuramente si è messo al lavoro anche rispetto a questo. Il commissariamento di Sia Toscana a che punto è? È in fase ormai avanzata, quindi io credo che nei prossimi giorni ci saranno risultati. Grazie. Grazie.